Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Oggi vi ho portato Gump Jump, un nuovo titolo disponibile sul PlayStation Store a 1,49€. È un gioco facilissimo da platinare e sto giocando la versione per PlayStation 4 di questo titolo che comunque è disponibile anche per PlayStation 5. Il nostro obiettivo sarà quello di aiutare il nostro amico Koala a salire sempre più in alto. Infatti dovremo raggiungere la massima altezza possibile, ovvero i 1000 metri. Facendo questo dovremo anche ottenere un punteggio di 150 punti raccogliendo le monete dorate lungo la nostra salita, lungo il nostro percorso, saltare su dei tappeti elastici per un totale di 6 volte almeno, saltare comunque in totale almeno 50 volte, ma sono trofei che si sbloccheranno naturalmente, e poi fallire almeno una volta colpendo la stelletta ghiacciata che ci farà ripartire dall'inizio del livello. E questo è quanto, è un titolo abbastanza facile da platinare, potrebbe volerci qualche tentativo per padroneggiare al meglio i comandi per spostare il nostro amico Koala e fargli fare dei salti ben calibrati, però dopo un pochino di pratica non si faticherà assolutamente a raggiungere i 1000 metri di altezza e quindi tutti quanti i punteggi. E questo è quanto, un altro titolo facilissimo da completare e platinare, io mi fermo qui con questo video, spero che vi sia stato utile e vi do appuntamento con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti! Ciao a tutti!